Siamo giunti a giovedì 23 agosto, come vedete gli ospiti della nuova puntata si stanno preparando per farvi compagnia insieme a me. Saremo di nuovo con voi con l'agenda degli appuntamenti estivi, vi parleremo in particolare del processo alla storia che sarà celebrato domani a Torre Orsaia. Chi sarà processato, quale personaggio storico sarà processato lo scopriremo nel corso della TG Estate, poi parleremo del Villamare Film Festival, si parte domani, in che modo ve lo spiegheremo dopo. E poi ci sarà Gusto Estate, abbiamo appena visto la nostra amica Francesca Pellegrino che si sta preparando con lo chef di oggi ma anche con un nutrizionista, quindi ci sta da una parte chi ci suggerisce di cucinare e mangiare e dall'altra c'è chi ci dirà si mangiare si ma con moderazione, sicuramente andrà a finire così. Intanto andiamo a ricordare un po' di appuntamenti, andiamo con gli appuntamenti per oggi 23 agosto a Casalvelino oggi ma anche domani 24 agosto si terrà musica in piazza, si potranno degustare i piatti tipici e ascoltare musica popolare. Per questo 23 agosto è previsto il concerto dei Tarantanobes e ancora a Pollica iniziano oggi le serate cilentane che animeranno anche la serata di venerdì 24 agosto, due sere dedicate al filento che trascorreranno all'insegna del gusto, della musica ma soprattutto del sano divertimento. A Sapri invece va avanti la rassegna Sapri anni 60, per questo giovedì è previsto il concerto degli Alma Megretta, venerdì sera l'ultimo appuntamento sul palco, ci sarà il musical Actor Day che racconta la vita di padre Pio. Gli organizzatori hanno deciso di offrire al pubblico l'ingresso, quindi sarà gratuito l'ingresso a queste due serate ultime di Sapri anni 60, per cui potrete assistere al concerto di questa sera degli Alma Megretta e al musical domani senza pagare il biglietto. Chi invece è già in possesso degli abbonamenti, ovviamente entrerà e sarà privilegiato perché a loro saranno riservate le prime file. Mentre a Policastro per questo 23 agosto è previsto il primo festival delle idee congeniali. Dalle 18 in poi sul lungomare troverete circa 20 stand allestiti da cooperative o imprese che presenteranno i loro progetti sociali o imprenditoriali, comunque congeniali. A Castellabate va avanti i vicoli in vino, fino a domani potrete degustare vini prodotti da diverse aziende vitivinicole del territorio. E domani, venerdì 24 agosto, inizia il Villamare Film Festival che andrà avanti fino al 30 agosto. Quest'anno è strutturato diversamente, seguite bene perché altrimenti rischiate di venire in piazza e di non trovare nulla. Perché le giornate del Villamare Film Festival iniziano domani, sì ma non in piazza Villamare. Le serate in piazza inizieranno domenica 26 agosto e rimarranno in piazza fino al 30 agosto in questa piazzetta qui di Villamare. Invece domani e dopodomani, quindi il 24 e il 25, ci sarà presso l'hotel Le Piane sulla Statale 18 a Villamare la proiezione non stop di cortometraggi. Si inizia alle 10 del mattino, quindi dalle 10 del mattino potrete assistere alla proiezione dei cortometraggi. Sono 100 complessivamente che verranno proiettati tra domani e dopodomani e sono 100 cortometraggi selezionati tra i 300 che erano stati candidati alla 17esima edizione del Villamare Film Festival. Voi andate in hotel, vi accomodate nella sala cinematografica e dalle 10 del mattino in poi, quando volete, entrate, vi sedete e assistete appunto a questo spettacolo cinematografico. Poi la sera del 24 ci sarà la proiezione di un film davvero interessante, ma di questo ne parleremo dopo. Adesso invece cerchiamo di farvi una sintesi del nuovo programma del Villamare Film Festival con questa clip. Inizia il conto alla rovescia per la 17esima edizione del Villamare Film Festival che quest'anno dedicherà alle produzioni cinematografiche sette giornate, tre in più rispetto al passato. Si inizierà il 24 agosto per terminare il 30, un'intera settimana dedicata soprattutto agli appassionati di pellicole. La novità assoluta della nuova edizione sta nelle due prime giornate. Il 24 e 25 agosto presso l'Hotel Le Piane sulla Statale 18 a Villamare, proiezione non stop di cortometraggi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21 e 30. Si tratta delle migliori 100 opere delle 300 che erano state candidate al festival. I 13 corti finalisti invece verranno proiettati durante le serate che si terranno nella piazzetta di Villamare dal 26 al 30 agosto. Tornando alle prime due giornate, va aggiunto che sia la sera del 24 che quella del 25, al termine della non stop di proiezioni di cortometraggi, sarà possibile assistere alla proiezione di lungometraggi. Venerdì 24 c'è il film Felicissime Condoglianze di Tom Ponti, mentre sabato 25 si potrà visionare alle 20 Le Grida del Silenzio di Sascha Carlesi e a seguire in anteprima Angeli del Sud di Bruno Colella. L'ingresso per assistere alle proiezioni in hotel è gratuito. Intanto cresce l'attesa per l'arrivo a Villamare dei VIP che animeranno le quattro serate in piazza. L'apertura, domenica 26 agosto, sarà affidata a Renato Carpentieri. A seguire Gianni Politi che insieme all'attrice Fabiana Latini presenterà il suo cortometraggio di 6 minuti, corto in corto. Paolo Sassanelli, Anna Falchi, Eva Grimaldi, Massimo Bonetti, Serena Utieri ed Enrico Loverso sono solo alcuni dei personaggi che si alterneranno sul palcoscenico del Villamare Film Festival che anche quest'anno sarà condotto dalla brillante presentatrice Daria Scarpitta. 105 TV, promotrice dell'iniziativa, ha molte altre idee in cantiere per soddisfare il prezioso pubblico che, come per il passato, potrà garantirsi un posto a sedere nella sala cinematografica all'aperto dotandosi della tessera Amici del Festival. Bene, insomma, questa è un po' la sintesi di ciò che accadrà da domani a Villamare con il Villamare Film Festival, quindi il 24 agosto presso l'hotel Le Piane a Villamare ci sarà un anostop di proiezioni di cortometraggi dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 21 e 30 e alle 21 e 30 inizierà la proiezione del film Felicissime Condoglianze cerchiamo di capire che cosa racconterà questo film con quest'altro servizio intanto, come potete vedere, sono già in distribuzione le magliette del Villamare Film Festival che riceveranno in particolare le persone che ritireranno la tessera Amici del Festival tessere che potete ritirare presso Emozioni ma di questo ne parliamo dopo, ora conosciamo meglio i dettagli della prima giornata del Festival Sono messo in testa di organizzare i funerali, vogliono fare i funeral plenari Canti per la messa E tu invece perché ti sposi? Non può funzionare Eccolo il mio filandrone Fermami signore, fammi amare questa creatura Mi piaceva così tanto andare in moto Ma tanto, tanto Ma tanto Ma quanto vanno ne riceve? Questa è uvile Questa è muvita Non lo facciamo Stop! Perciò mi político non doermanni E diretto un sorriso Capite che sta comando L'amore sulla mia vita I defunti dove? Da questa parte. Ancora con le canzze. Grazie. A tutti. Ma che pesco, mi dà. Metto il ciacchi in campo? No, mettici un bel pallone così se fanno tutti ieri. Felicissime con voglia. Eccoci qui da Emozioni, il negozio di fiori e piante oggettistica che trovate sul lungomare di Villammare, dove potete ritirare, eccola qui, la tessera degli amici della festival. La tessera che vi consentirà di prenotare sostanzialmente un posto a sedere nella sala cinematografica della Villammare Film Festival, perché lo ricordo dal 26 al 30 agosto si terranno le quattro serate della Villammare Film Festival nella piazzetta di Villammare. E lì ci saranno i posti a sedere. Chi vorrà garantirsi un posto a sedere deve essere in possesso di questa tessera che potete trovare in questo bel negozio sul lungomare di Villammare. Emozioni. E qui trovate anche la brochure con l'intero programma della 17esima edizione. Prima ora di parlare del processo alla storia che si terrà domani a Torre Orsai, prima del momento dedicato a Gusto Estate, un po' di pubblicità e poi di nuovo in diretta da Villammare con il Tg Estate. Il Villammare Film Festival sarà nella piazzetta Maria Santissima di Portosalvo dal 26 al 30 agosto. Gli ospiti della 17esima edizione Renato Carpentieri, Gianni Politi, Paolo Sassanelli, Marit Nissen, Eva Grimaldi, Pino Calabrese, Giulia Montanarini, Massimo Bonetti, Imma Piro, Serena Autieri, Milena Miconi, Anna Falchi, Roberto Calabrese, Alessandra Nicita ed Enrico Loverso. Le serate in piazza iniziano le 21 per il posto a sedere e ritirare la tessera a amici del festival presso il negozio Fiori e Piante Emozioni a Villammare. Domenica 2 settembre, briganti nel terzo millennio tra natura e cultura. A spasso per Atena Lucana ricordando la brigantessa Luigia Cannalonga. Partenza ore 8, si percorre con qualsiasi mezzo tutto il territorio di Atena Lucana. Pranzo ore 12, aperitivo con i briganti, con Enzo d'Arco e menù tipico locale. Nel pomeriggio fino alle ore 18, spettacoli, musica e animazione tradizionale con il gruppo musicale Le Folli Melodie. Domenica 2 settembre, briganti nel terzo millennio tra natura e cultura. Area attrezzata, Arenaccia, Atena Lucana, Salerno. Seguici su Facebook, email briganti-gruppobellomo.it. Sponsor ufficiale, Prest Italia a Teggiano. Per una testa sempre in ordine come vuoi tu, beauty parrucchiere di Rocco Avagliano. Pieghe e acconciature sempre alla moda. Esegue anche analisi della cute e del capello. Anche io per le look dei miei capelli al TG estate ho scelto la beauty parrucchiere in via Kennedy a Stam. Per le tue prenotazioni telefona al 328 59 45 180. In diretta da Villammare con il TG estate siamo in compagnia dell'Avvocato Marco Fimiani. Con lui parleremo della nuova edizione dei processi alla storia. Chi sarà processato domani sera 24 agosto a Torrorsai, Avvocato? Domani sera processiamo Vittorio Emanuele III, l'ultimo re d'Italia, su un tema che credo sia molto attuale, sulla promulgazione delle leggi naziali del 1938. Quest'anno ricorre l'ottantesimo anniversario della promulgazione e dell'applicazione di queste leggi che a quel tempo furono emanate e produssero tutta una serie di eventi. E quindi credo che questo tema sia anche di attualità e quindi abbiamo preferito scegliere un tema che è storico ma che ci avvicina molto anche a dei temi di attualità. Come sarà processato e da chi? Va bene, insomma il Tribunale ormai è da anni, sembra lo stesso, preseduto dal professore Tesauro che ormai è diventato quasi un nostro concittadino. Insieme a lui ci sarà Nicola Graziano che è un magistrato del Tribunale di Napoli, è stato anche a Vallola Lucania. Il collega Raffaele Quaranta, il professore Vincenzo Maiello, ordinario di diritto penale alla Federico II e il presidente Antonio Maglione che è anche un altro nostro amico di sempre. Quest'anno però, diciamo, nelle parti di accusa e difesa, come sempre facciamo, insomma cerchiamo di far ruotare. Quest'anno abbiamo un'accusa molto tosta perché l'accusa sarà di Woodcock, che è il pubblico ministero della direzione distrittuale antimafia di Napoli e a difendere l'imputato sarà invece il professore Gaetano Insolera che è ordinario di diritto penale a Bologna, quindi viene a Bologna apposta, insomma l'abbiamo convinto, il tema lo ha molto appassionato. Abbiamo pensato anche perché insomma quelle leggi produssero tutta una serie di problemi sugli ebrei dell'epoca di costituire anche una parte civile che sarà patrocinata dal collega Gian Domenico Cagliazza da Roma. Infine abbiamo pensato come un gioco facendo, lei lo sa, insomma sono anni, magari una serata agostana, però poi alla fine si fa cultura, si fa storia, abbiamo pensato anche di introdurre l'imputato e il presidente del parco del Cilento, Tommaso Pellegrino, si è prestato diciamo a impersonare Vittorio Emanuele III. Come politico sul banco degli imputati ci finisce sempre, voglio dire chi fa politica alla fine viene sempre giudicato, ma domani vestirà i panni di Vittorio Emanuele III e chissà come se la caverà, ma hanno un copione? No. Gli imputati? No, 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 questo insomma è un canovaccio molto vecchio, noi diamo un capo di imputazione, il capo di imputazione è un po' il tema su cui dovranno dibattere e anche il capo di imputazione quest'anno l'abbiamo scritto in una maniera più fantasiosa, perché domani sera a Torre Orsale il Tribunale del Popolo, come noi lo chiamiamo, vestirà i panni del Tribunale di Norimberga. Abbiamo immaginato che il Re, promulgando quelle vergognosi leggi del 1938, dovesse oggi ex post rispondere tipo a un tribunale di Norimberga nel 2018 e soprattutto se quel suo atto potesse essere chiamata responsabilità per tutto quello che poi successe dopo l'8 settembre in Italia, soprattutto la deportazione degli ebrei e gli assassini di massa nei campi di concentramento da parte dei nazisti. Vogliamo ricordare quindi brevemente che cosa dicevano queste leggi che finiranno sotto accusa? Insomma erano delle leggi mutuate dalla Germania che le aveva approvate qualche anno prima di noi, in effetti dal giorno al domani furono precedute da una, a proposito dell'attualità, da una specie di censimento degli ebrei che fu fatto per noi, vabbè un censimento normalissimo, state tranquilli, al censimento seguirono queste leggi e faccio un esempio, se uno era un professore di scuola il giorno dopo venne cacciato fuori. Furono salvati soltanto delle poche categorie più intellettuali che però avrebbero dovuto poi dare prova diciamo di un attaccamento al regime e anche di una biura rispetto alla loro origine. Fu una pagina molto drammatica che colpì bambini, che colpì tante persone, a Roma e non solo, anche nella provincia di Salerno ci furono delle conseguenze inarabili che domani sera verranno fuori tutto perché non conosco gli altri cosa diranno, i protagonisti, ma so che stanno studiando tantissimo. Perché chiaramente devono studiare bene la storia per poter organizzare l'accusa e la difesa. Certo, anche perché tutti vogliono fare bella figura ed è evidente che anche se alla fine, ripeto, è un momento per stare insieme per fare un po' di cultura nella serata d'agosto, però ogni anno io mi stupisco perché scegliamo un argomento che ognuno di noi crede di conoscere e poi a fine serata invece va via arricchito. Quindi invito veramente tutti a partecipare, è un'edizione molto particolare, state tranquilli, voglio dirlo a tutti gli amici che ci stanno vedendo, anche le previsioni del tempo sono buone per domani sera a Torre Orsaia, quindi venite, vi aspettiamo per trascorrere una serata e per fare anche un po' di cultura. Come si svolgerà la serata? A che ora inizia e dove? Solito posto, piazza Lorenzo Padulo, la piazza principale del paese, alle 9 domani sera saremo lì e daremo inizio al processo. Vogliamo ricordare i precedenti imputati? Abbiamo processato molto, io ricordo con molta affetto il processo a Pasolini che forse fu uno di quelli, ma anche l'anno scorso processammo Sacco e Vanzetti, ci stiamo un po' legando alla ricorrenza, l'anno scorso erano 80 anni dall'uccisione di Sacco e Vanzetti, quest'anno 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali, ma abbiamo processato un po' tutti, iniziamo anche per un fatto di territorialità con Pisacane, abbiamo processato Giulio Cesaro, Lucrezia Borgia, Ferdinando II, insomma abbiamo processato molti personaggi storici. E continuiamo con questo grande sforzo, perché in questo periodo tutti gli sforzi ovviamente, nel mese di agosto, si diventano più pesanti, però poi la soddisfazione a fine serata di tutta la gente che partecipa ci ripaga. Bene, allora non dimenticate, processo a Vittorio Emanuele III il 24 agosto in piazza a Torre Orsai a partire dalle 21. Già sapete chi processare l'anno prossimo? No, poi voglio ricordare, come al solito, alla fine siamo arrivati all'undicesima edizione col premio Franco Pugliese, che era un torrese illustro, un professore universitario, un mio caro amico che scomparve prematuramente all'età di 50 anni. Ogni anno tu mi chiedi, ma io non lo dico, il premiato, ma voglio soltanto anticipare che sarà un torrese che ha dedicato la vita al nostro territorio. Lo scopriremo domani sera. Grazie all'avvocato Marco Fimiani e noi andiamo invece ora allo spazio dedicato al gusto. Gusto, 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 quando si parla di gusto a 105 TV si parla di Francesca Pellegrino. Gusto Estate, oggi due ospiti. Due ospiti di varie misure. Quello è il problema, grazie Antonietta, grazie. Benvenuti alla rubrica Gusto Estate qui da Villa Mare insieme a Due Colossi. Veramente orgogliosa, ma nel vero senso della parola, ecco, due pilastri importanti. Due pilastri dell'alimentazione, da questa parte gastronomia, da questa parte benessere. Vi presento subito lo chef vicino a me. Sono veramente contenta, da tanto tempo che ti ho cercato, ti volevo con me in trasmissione. Oggi sei qui e sono onoratissima. Pascal Sfara, direttamente, ve lo dico e ve lo metto per iscritto, direttamente dal mondo. Benvenuto. Grazie, è un onore essere qui a Villa Mare con te. È un onore da Cilentano poter fare questa cosa qui oggi. Spero che quello che facciamo oggi sia ben recepito e non visto come piccola portata. Beh, no, tu farai sicuramente un qualche cosa da grande maestro, visto che sei uno chef che gira il mondo. Ha avuto già tante, tante esperienze e grandi maestri. Sì, primo su tutti il signor Marchesi. Ho avuto l'onore di lavorare con lui all'Alberetta. Ho fatto la sua scuola Alma, dove sono diplomato a Parma. Nonché lo chef Heinz Beck, tre stelle Michelin. Tre stelle Michelin in Francia, i fratelli Purcell. Una stella Michelin a Roma, giù da Ballerino. Due stelle Michelin Enrico Bartolini, per cui sono andato a fare l'apertura a Abu Dhabi. Nicola Batavia, una stella Michelin a Torino, per cui sono andato a fare l'apertura in Marocco. e tanti altri. Beh, scusate, ditemi se è poco cosa vi ho portato oggi qua. È una cosa fantastica. Veramente è un grande, grande piacere e onore. Oltre ad essere un mio caro amico, ci conosciamo da tanti anni. Lo seguo sempre su Facebook, Pascal Sfara. Vedete le cose che riesci a fare. Sono veramente incredibili. Oggi qui... Tra l'altro ci incontriamo con Heinz Beck a Roma. Quindi è live proprio anche in quel caso. Heinz Beck insieme a lui, che mi hanno preparato un dolce eccezionale. Veramente è un grande, grande onore, sia da parte tua che da parte di Heinz. Essere servita da lui, un grande maestro. Eh sì, grande, grande spessore, grande cultura e grande persona. Benissimo, allora avremo modo, spero di incontrarti a 105 con gusto. Resterai ancora con noi? Vediamo, se il mondo non mi chiama, vediamo. Mondo, non lo chiamate perché lo vogliamo quale. Questi menti importanti li vogliamo qui nel nostro Cilento a regalarci tanta, tanta gastronomia e tante ricette. Oggi la ricetta. Oggi farò un bonbon di manzo irlandese, ripieno di crema al gorgonzola, cipolla al vino rosso, con una memoria del signor Marchesi, quindi un dripping al nero di seppia, contornato con delle bacche di goji, della pasta a filo con olio extravergine di oliva e rosmarino e finita con un po' di finocchietto selvatico noccilentano. Benissimo, io ti lascio lavorare. Inizia tranquillamente, ti diamo spazio. Vicino a me il dottor Francesco Ateniese, un grande dell'alimentazione, un nutrizionista, dietologo direttamente da Napoli per voi. Speriamo di averlo spesso anche in trasmissione. Ci parlerà di alimentazione, parleremo un pochino di questa ricetta, ma conosciamolo. Benvenuto, io avrei bisogno però di una scaletta. Luigi, se me la prendi, magari ci salgo sopra, mi viene più comodo. Ok, Francesca, grazie a te della possibilità e della disponibilità che hai mostrato in questi giorni estivi e il piacere di essere qui con te e con lo chef è immenso. Quindi sono pronto a assaggiare questa ricetta che già sento sana, equilibrata e ovviamente estiva. Quindi per me è un onore essere qui con voi e poter rispondere un po' ai vostri dubbi, qualche domanda per il post estate, come rientrare un po' in forma e riequilibrare questi giorni dove tutti siamo un po' in pausa e quindi riprendere un certo discorso sia di salute che di estetica. Quindi noi questo facciamo sia sull'ambito patologico, estetico, quindi sulla vanità della persona, ma anche sulla salute, ma ovviamente anche l'ambito sportivo. Io so, scusa, scusa, lui sta continuando tranquillamente, so che comunque tu fai parte anche della squadra nazionale femminile. Sì, del Napoli femminile, la squadra ovviamente che concorre per questo campionato importantissimo, l'anno prossimo ci saranno i mondiali, alcune giocatrici del Napoli sono in area nazionale, quindi è un anno di preparazione e di soprattutto conquista per molte atlete. Poi c'è l'ambito maschile dove sono stato un po' con l'Udinese Calcio, adesso c'è una nuova finestra che non dico perché è una notizia per l'autunno prossimo, importante e quindi per il Napoli adesso manderò nelle foto alle ragazze le ricette che noi stiamo gustando, mentre invece loro fanno la dieta proprio per le preparazioni sportive, quindi si offriranno un po'. Vedere cosa mangeremo fra un po'. Allora Francesco, intanto sto vedendo che sia un buon punto. Allora io proprio per dimostrarvi che è live vi racconto la ricetta. Praticamente ho fatto questo battuto di manzo a mo' di carpaccio, ho adagiato su una crema mascarpone e gorgonzola, la cipolla al vino rosso e adesso farò un bonbon tipo una pralina. lo faremo tipo un Ferrero Rocher di carne. Quindi... Va bene allora continui così, passo di nuovo al dottore Francesco. Abbiamo mangiato tutti, tutti indistintamente. Non mi dite che non avete mangiato perché io ho una panza che non ve... Guarda, tutti i signori qua stanno tutti con la mano sulla pancia, ci siamo dati da fare. A parte un veloce consiglio ora, perché poi avremo modo di averti a 105 con gusto e sono contentissima, qualche consiglio così in diretta, la colazione la mattina, il cornetto la sera, dici tu. Allora, ovviamente ogni paziente ha la sua dieta, ogni persona ha il suo assorbimento, la sua metodica per dimagrire e depurare un po' gli eccessi estivi. Consiglio sempre di poter fare una buona colazione dentro un'ora dalla sveglia, in quanto, ecco, anche guardando, tu sei una Ferrari, se non metti la benzina giusta in questa Ferrari rimane ferma. Se hai una panda, anche un litro di benzina fa 20 chilometri, la Ferrari non si accende, quindi una buona colazione al mattino, ovviamente dipende anche un po' dal quadro analitico, eventuali patologie, se scegliere un salato oppure un dolce. Una buona ricetta può essere quella che prepara lo chef, un cottura ideale, quindi maggior assorbimento, un buon transito intestinale, ovviamente, quindi promette un'ottima funzionalità di tutto l'organismo, quindi anche una perdita di peso. La cottura è fondamentale, la provenienza è il cibo, molti pensano che prendere un alimento qualitativo non significhi per forza benessere, invece è così, la provenienza è importante, cuocerlo bene migliora il dimagrimento perché migliora la digestione e assorbimento. La sera tu mi chiedi del cornetto, sono un estimatore soprattutto dei dolci, se sei in fase di, ovviamente, alterazione glicemica, ti conviene scegliere un qualcosa che mantenga il glicemico basso, unire al mielo con i frutti, se hai una patologia diabetica importante, conviene non mangiarlo la sera, ma magari al mattino. Per noi che siamo a cavallo di un buon peso, direi che magari alternare le sere, o concederlo nel weekend, è la cosa ideale, con delle marmellate o creme leggere. Bene, passiamo, ottime consigli, vero? Eh certo, infatti in questa ricetta non vedrete sale, perché già nella crema al gonzola c'è il sale, adesso che sto per fare il dripping di nero di seppia che è già salato, quindi non andiamo ad aggiungere, come giustamente il dottore diceva, un eccesso di sale, quindi ci sarà un bilanciamento naturale del sale, quindi io cosa faccio? Come faceva il signor Marchesi, perché farò un dripping di nero di seppia, purtroppo sporco anche il, sporco tutto, e poi io ci metto un po' del mio, faccio qualche schizzo. Però è fantastico, perché non fate più i piatti, voi fate delle opere d'arte, come dice il dottore. Praticamente adesso ha fatto un po', il signor Marchesi, un po' il mio piacere, adesso cosa faccio? Andrò ad adagiare casualmente i bomboni di manzo, senza nessuna logica, perché... Così, come vieni? Come ti senti così lo puoi... È fantastico farlo fare ai bambini, sta cosa, ecco, e poi farglielo mangiare, è bello. Poi aggiungiamo, per dare un'altra nota di colore che assomiglia alla carne, ma che non è carne, è salute come il dottore giustamente ci insegna, le bacche di goggi, che il dottore oggi lei mi può aiutare in questo, a livello di benefici delle bacche di goggi. Sì, sì, è un piatto salutare, è bello a vedersi, quindi invita al gusto, e poi soprattutto questa miscolanza di antinfiammatori, come possono essere le proprietà della cipolla, che scusami se ho anticipato, vedo lì già pronta, è la bacca di goggi, per aumentare anche un po' il metabolismo basale, quindi sicuramente è una funzionalità unita al gusto, ed è quello che oggi il paziente richiede, anche perché non solo la nostra Francesca, ma anche la tua trasmissione ci insegna che oggi sono tutti un po' giudici anche del cibo che andiamo a mangiare, e quindi c'è un'esigenza altissima, la richiesta è davvero, davvero, molto, molto alta, sì, soprattutto quando poi è un piatto del genere dove ti aspetti tanto, e sicuramente saremo soddisfatti. Sicuramente, ma perché oltre, ecco, bellissimo anche da vedere. Bellissimo, io lo mangerei anche a giorni alterni questo, soprattutto lo chef dopo mi darà prenotazioni quotidiane. Bene, bravissimo. Abbiamo terminato con questo ricordo di Medio Oriente, tra cui Abu Dhabi, il Marocco, che dall'altro lato però fa sempre parte della cultura araba, questa pasta a filo fatta a modi sfoglia, con olio extravergine d'olivo acilentano, rosello d'ormarino e sale, quindi viene cotta a bassa temperatura, e quindi viene realizzato questo cracker, come puoi vedere, tipo una millefoglie, salata, che dà la parte croccante al piatto e serve comunque a dare una parte gustativa alla carne, perché essendo cruda ha bisogno di una parte cotta e quindi con la sensazione di abbrustolito, di arrostito, chiaramente la vado a prendere dalla parte amidacea, che è la pasta a filo che è fatta di acqua e farina. Bellissima, voglio assaggiare questa pasta a filo. Assaggia! Ma l'hai fatta tu? Ma è fantastica! Quanto ha di lavorazione questa? 20 minuti di cottura, sì. È fantastica, leggerissima, ha un buonissimo sapore. Adesso la cosa che ti consiglio, e questo è un piatto che potenzialmente si può anche mangiare con le mani, prendere il bonbon con la pasta a filo, lo puoi, diciamo, intingere nel nero di seppia e mangiarlo tutto insieme con lo finocchietto e avrai modo di capire quale è il mio passaggio. Questa esplosione di gus, e questa esplosione lo faremo appena arriva Antonietta. Qualche altro consiglio? Quello che stai facendo tu per mantenerci belli. Sicuramente, Francesca, finire questi giorni di convivio, quindi di ritrovarsi anche sulle tavole in maniera sana, scegliere piatti equilibrati, cotture tipo quelle che oggi lo chef ci ha mostrato, quindi davvero per chi vuole ritornare a una vicinanza dietetica, una terapia simile a una depurazione, quindi anche vari carpacci, cotture molto, molto, molto leggere, quindi come un vapore, una bollita, scegliere queste spezie, questi colori anche, perché lo chef mi insegna che mettere a un paziente un piatto colorato e bello inviterà a fare la terapia dietetica, qualsiasi esigenza lui abbia, quindi insegnare anche la bellezza dei piatti e la cucina educa. Infatti il signor Marchesi, il più grande messaggio che dava, che oggi dà ancora, è se è bello è buono, quindi se è bello da vedere già predispone il cervello. Psicologicamente noi siamo preparati a mangiarlo con una preparazione diversa. Sì, infatti. Benissimo, allora io sicuramente vado ad assaggiare. Chiamo Antonietta per far assaggiare, vi ringrazio, vi do l'appuntamento alla settimana prossima con altri chef, con tanto gusto, mi raccomando voi rifate questo piatto che è eccezionale. Antonietta inizia a provare, perché è buono lo stesso, perché è un carpaccio, è un carpaccio, un carpaccio. Allora lo mangiamo noi Antonietta per la prima volta. Possiamo far vedere come si mangia? Tu sarai quella che assaggerà. Io faccio la cavia. Allora vi saluto, passo il microfono a lei, ringrazio il dottore Francesco. Grazie a te Francesca per la tua professionalità e bellezza nel fare quello che fai. Grazie. Grazie, allora alla prossima. Ti aspettiamo a 105 con gusto. Sarò qui quando vuoi. Grazie, grazie, un onore, grazie. Allora aspetti, voglio salutare prima di mangiare, sennò poi dopo non posso parlare più. Allora ti ringrazio, anche a te ti do l'appuntamento a 105 con gusto. Per me è stato un grande onore, un grande piacere averti qua. Sei un grandissimo chef e ti faccio tanti tanti auguri. Grazie mille, grazie a voi e speriamo di vederci presto. Benissimo, il microfono è a te. E ora voglio vedere che mangi sto bocconcino. Ecco qui, no, io il crudo, ditemi quello. Crudo è buono. Buonissimo. No, lui è composto, è il nutrizionista. Quante calorie potrà contenere un bocconcino del genere? Quante calorie potrebbe contenere? La caloria è qualcosa di molto soggettivo. Io consiglio di non seguire il principio calorico, è molto obsoleto. Quindi vedi magari al controllo degli zuccheri, magari togli il nero di seppia che è un po' più caramellato. Quindi la caloria si abbassa e va sul crudo. Insomma, togli tutto. 90-300, il piatto è intorno ai 100 grammi. 100, 80 grammi. No, 80-100 grammi di piatto preparato per 250-300 calorie. Marunna mia bella. E io te magno! Allora, è andata, mamma mia. Però, mentre lui gusto, noi siamo davanti all'amico Enzo della gelateria Enzo. Ecco, qui abbiamo qui a Villammare pasticceria e gelateria Enzo. E quindi è il periodo dei gelati. Gelati possiamo mangiarne quanto ne vogliamo? Direi sempre come sostitutivo di un pasto principale. Magari sceglie un gelato con una soluzione a crema. Magari ci mette un po' di frutta secca vicino per completare anche il quadro proteico. Se deve badare un po' più a un sistema depurativo dietetico, direi. Ho frullato i famosi smoothie che adesso li trovo in tutte le varie gelaterie, magari con frutti vicino. Sempre una, magari una soluzione a bevanda così l'assorbimento è migliore. Oppure il classico gelato alla frutta che è davvero ideale con questo caldo. Bene, grazie. Grazie a lei. Francesca per questi suggerimenti che i tuoi amici ci danno ogni giovedì alla TG Estate. E ora a proposito di gusto, anche quest'anno il Villammare Film Festival avrà i dopo cinema gastronomici. Vediamo un po' chi saranno i protagonisti dei dopo cinema gastronomici. Ce lo ricorda la brochure ma anche i manifesti. Ne abbiamo uno qui in giro per il territorio che ci ricordano l'appuntamento con il Villammare Film Festival che è in piazza, nel piazza di Villammare, si terrà dal 26 agosto fino al 30. Quindi domenica 26, la serata inaugurale in piazza, inizierà con un dopo cinema gastronomico con le delizie del Cilento. Quella del 27 agosto ci sarà la pasta, non so, di U Parlatorio, di Angelo Ricchiuti. È sempre Angelo Ricchiuti con U Parlatorio che trovate a Vallo della Lucania, a massa di Vallo della Lucania. Sarà il protagonista del dopo cinema gastronomico anche del 28 agosto, di martedì 28 agosto, e proporrà al pubblico del festival il trittico di verdure. Mercoledì 29 agosto, dopo cinema gastronomico curato da Zero di Vallo della Lucania che offrirà la pizza fritta e poi giovedì 30 agosto la chiusura. Non mancheranno i fuochi pirotecnici, però prima dei fuochi ci sarà il dopo cinema gastronomico dolci e bollicine con la gelateria Damimi di Villammare. E noi, prima di lasciarvi, voglio ricordarvi che a Sio Cilento il 25 agosto potrete assistere al concerto di Tony Tammaro, mentre Don Tonino Palmese il 25 agosto sarà a Casellin Pitteri per partecipare alla presentazione della raccolta di poesie di Felice Fusco intitolata Come le foglie. L'appuntamento sarà per le 20.30 in Piazza Olmo e sabato 25 agosto torna a Pisciotta la magia della Maratona degli Olivi. Io vi lascio così, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata della TG Estate. Arrivederci.